Exoratics, oggi sono qua per mostrarvi questa magnifica Lincoln Co. 01 Guardate che bella questa colorazione nero metallizzata Qua sul cofano troviamo il logo del marchio E troviamo anche questo bellissimo dettaglio blu Che ci richiama il fatto che la macchina sia ibrida Qua presente l'acqua analevia completamente a led E guardate che bellezza questi cerchi Addirittura tre i colori presenti sui cerchi Non sto assolutamente temporeggiando alla ricerca della misura dei cerchi I cerchi che misurano 20 pollici in diametro Il veicolo misura 4,54 metri di lunghezza 1,86 metri di larghezza E 1,69 metri di altezza Passiamo alla parte posteriore Dove troviamo l'unotto e i vetri posteriori oscurati di serie Quindi privacy e anche qua tutta la fanaria full led Sensori di parcheggio, retrocamera Bagagliaio elettroattuato hands free Che ci mostra la sua completa capienza Gigantesco infatti misura 466 litri Con i sedili in posizione rialzata Mentre abbattendoli 60-40 arriva fino a 1213 Quindi una dimensione gigantesca Molto bella la luce di cortesia Completamente a led Molto utile E qua troviamo oltre alla totale assenza di un gradino per la soglia di carica Di carico Tutto quello che è il nostro kit per la ricarica della parte elettrica del veicolo Che come dicevamo precedentemente è iprido Ma andiamo a vedere le sedute posteriori Guardate che belle Neri con impunture azzurre e blu E questi dettagli sempre blu che le danno un tocco di colore decisamente molto molto bello Totalmente in tessuto Troviamo anche su tutte le sedute laterali Gli agganci Isofix per i nostri seggiolini Abbiamo delle prese di ricarica Le bocchettine del clima Questi lini sono ovviamente elettrici Ma andiamo davanti a vederla meglio Ma guardate che eleganza e che tecnologia In questa Link Echo 01 Qua sulla sinistra abbiamo parte dei comandi dell'infotainment Di questo schermo completamente digitale Mentre qua sulla destra troviamo altri comandi per gestire sempre il nostro schermo digitale Qua abbiamo un gigantesco touchpad con tutte le funzioni del nostro veicolo Climatizzatore con comandi rapidi Il cambio è ovviamente automatico Abbiamo anche la ricarica wireless per il nostro telefonino Il selettore della modalità di guida Il freno a mano è elettrico E qua abbiamo un po' di spazio per tutte le nostre bibite e simili Come abbiamo un po' di spazio qua sotto Quindi questa era la nostra Link Echo 01 immatricolata nel 2021 Con poco più di 28.000 km Come abbiamo detto è una versione ibrida plug-in Io vi aspetto su ratix.com Per tantissime altre vetture disponibili Pronte per essere viste e guidate da voi Pronte per essere viste e guidate da voi Pronto per essere viste e guidate da voi